quando parlo di far dialogare una pompa di calore con l'impianto fotovoltaico esistente sempre più spesso i detrattori o le persone che non si rendono conto che il mondo cambia e l'evoluzione ci migliora la vita dicono che non funziona una delle domande più frequenti è la pompa di calore quando c'è il sole consuma troppa energia e il fotovoltaico d'inverno non funziona capisco che è difficile trovare in rete informazioni in merito quindi voglio provare a trasferirti il concetto principale che sfugge a tutti coloro che credono ancora non sia conveniente passare dai combustibili fossili al tutto elettrico tutti i sistemi di riscaldamento devono funzionare quando fa freddo e nessuno di loro è gratuito gpl metano che alimenta la caldaia dal gasolio per chi in aree disagiate alla legna per chi la preferisce riscaldare casa costa soldi e nemmeno la pompa di calore lo fa gratis ma in inverno che calcoliamo dura circa tre mesi all'anno non è fatto solo di giorni bui e con poca luce solo che a differenza degli altri sistemi nei giorni in cui è freddo e un pizzico di sole c'è il sistema intelligente accumula tutta l'energia termica possibile nei osservatoi d'acqua e lo fa gratuitamente perché sfrutta i momenti di maggior produzione solare a questo punto faccio io un paio di domande quando la giornata è brutta gli altri sistemi cosa fanno quando invece la giornata è splendida anche se fuori fa un freddo polare cosa fanno gli altri sistemi riescono ad approfittare di queste situazioni favorevoli offrendoti un risparmio notevole e per quelli che non contenti dicono che la corrente costa soldi cosa ne dite di informarvi a leggere il decreto firmato il 2 dicembre del 2015 dove si stabilisce che a partire dal 2018 più energia consumi e meno la paghi ripeto non scherziamo sull'argomento le cose non si fanno più come si facevano dieci anni fa e anche nel settore degli impianti domestici è cambiato tutto la tecnologia ci aiuta a vivere meglio e da spendere meno soldi ed energia ma la dobbiamo conoscere ed utilizzare a nostro favore senza combattere inutilmente quindi se sei prossimo a realizzare gli impianti per la tua casa no gas e vuoi capire come ottenere il massimo ottimizzando il budget senza accettare compromessi clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica per oggi è tutto un saluto